Ariet, l'eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d'umore, conseguenza diretta dello scontro tra Luna, Urano e Plutone. Toro, grazie a se stile della Luna trascorrerete una giornata piacevole, sereni e collaborativi sul lavoro, affettuosi e comunicativi in coppia. Vi troverete a rimettere in discussione abitudini, scelte e sentimenti. La Luna vi dà una mano. Gemelli, buon compleanno! Il sole oggi fa ingresso nel vostro segno, caricandovi di energie. La Luna invece vi ignora, ma non si può avere tutto. Vi rapportate bene con l'ambiente, brillanti conversatori e avrete facile presa su qualunque interlocutore. Cancro, vi verrà più facile lasciarvi trasportare da sogni irrealizzabili o da nostalgie per il passato piuttosto che adoperarvi per migliorare il presente. Luna e Venere fanno di voi degli inguaribili romantici, ma Urano e Plutone vi rompono le uova nel paniere. Leone, impegnatissimi di giorno all'uscita dal lavoro, finalmente liberi, vi prendete il vostro tempo, senza programmi o appuntamenti da rispettare. Un po' di introspezione in amore non vi farebbe male. Cercate di interpretare i vostri sentimenti. Vergine, una volta data la vostra parola vi impegnerete in ogni modo per mantenerla, poiché ciò a cui tenete di più è di essere reputati onesti e credibili. Una questione familiare sarà l'occasione giusta per chiarire con precisione i vostri principi. Bilancia, condizionati dai malumori messi in campo dalla Luna e Venere in cancro, in contrasto con Urano e Plutone, la paura di perdere terreno vi blocca. Famiglia invadente che con la scusa dell'affetto e dell'esperienza condiziona le vostre scelte. Scorpione, Luna e Venere in trigono vi fanno buon gioco, le loro schermaglie con altri pianeti a voi non interessano, sensibilità e fantasia al top. Nel rapporto a due vi mostrerete meno gelosi e possessivi, accettando qualche compromesso. Sagittario, potendo spegnereste la sveglia per continuare a dormire, meglio sognare piuttosto che affrontare la monotonia di giornate come questa. Soluzione, trovatevi un'occupazione piacevole per il tempo libero, bricolage, iniziative culturali. Capricorno, semaforo rosso con la Luna, Venere e Urano dissonanti, umore sotto le scarpe, partner e soci d'affari capricciosi, creatività agli sgoccioli. In famiglia la vostra sete di indipendenza potrebbe scatenare infinite ed improduttive polemiche. Acquario, nessun aspetto significativo che vi coinvolga in prima persona ma con il Sole, Mercurio e Marte in trigono. Non avete bisogno di grandi aiuti, attenti però a non dare troppo peso ad alcune possibilità di lavoro che sono solamente ipotetiche. Pesci, creatività e romanticismo sono garantiti dalla Luna e da Venere in un segno d'acqua come il vostro, l'ideale per un tuffo in acque rinfrescanti. Nessun astro oggi contro di voi, godetevi la giornata senza lagnarvi se qualcosa non gira. Grazie